Allora, questa è la fila delle persone che stanno aspettando di andare a appoggiare i propri omaggi alla Salma di Mao. Infatti, questa è Masola di Mao, al cui interno c'è la sua Salma in Bassa Amata. Questo è, diciamo, il Parlamento. Questo è un enorme obbedisco, ma non mi chiedete che cosa sia. Sullo sfondo laggiù vediamo l'entrata della città prebita e, alla mia destra, l'imponente Museo Nazionale Cinese.